Ingegner Zorzi, da appassionato di arte è un bel messaggio che lei oggi offre alla Puglia, ossia mettere a disposizione questa grandissima opera di pomodoro qui davanti all'ingresso dell'istituzione più importante. Sì, questo è uno spazio enorme per cui non aveva molto senso mettere un oggetto più piccolo di questo. Mi piace ricordare che questa scultura è più grande di quella davanti alla Farnesina e fa parte della serie delle sculture monumentali di pomodoro e penso che possa essere un bel landmark per chi viene qui e vuole vedere la prospettiva del palazzo dell'istituzione in un modo un po' più moderno. Si chiama Disco a forma di rosa del deserto, come dicevo ricorda le rose del deserto che sono quelle pietre modellate dal vento e dalla sabbia e pomodoro è il più grande scultore vivente italiano, riconosciuto da tutti come tale, molto internazionale, conosciuto in tutto il mondo, le sue opere sono ovunque in Europa, negli Stati Uniti.